Quali sono alcuni personaggi, nomi di politici che hanno ridotto in poltiglie, dico io, hanno ridotto questa Italia e questa situazione e sono diventati, qualcuno dice schiavi, io dico servi addirittura dell'Europa. Quali sono? Tutti coloro che hanno messo in campo azioni politiche mirate al completo svuotamento delle sovranità nazionali. Quindi come ho voluto iniziare la mia inchiesta giornalistica? Ho voluto tracciare quelli che sono stati i principali trattati, le principali leggi che hanno portato al completo svuotamento delle sovranità nazionali, questo dall'entrata dell'euro fino ad oggi, anzi addirittura sono partito dal 1981, quindi con la divisione dal Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia, quindi affidando direttamente al mercato la nostra unica possibilità di finanziarci. La mia inchiesta prosegue con i responsabili dell'entrata nell'euro, della firma del trattato di Maastricht, della privatizzazione degli enti pubblici, fino ad arrivare alla firma del fiscal compact, il pareggio di bilancio in Costituzione. E ho provato a vedere se questi personaggi avessero qualcosa in comune, qualcosa che in qualche modo li legava. Mi sono reso conto che tutti questi trattati avevano sottratto potere ai popoli e lo avevano messo in mano della finanza speculativa. Quindi la prima cosa che ho fatto è chiedermi qui Prodes, cioè a chi ha beneficiato di questi trattati, di queste leggi e di queste cessioni di sovranità. E mi sono trovato di fronte ad uno scenario incredibile, perché tutti coloro che avevano effettuato questi veri e propri attacchi al nostro Paese, avevano in comune tutte le stesse organizzazioni ufficiali della finanza speculativa. Cioè esistono delle organizzazioni, anche se censurate dai media tradizionali, ma sono ufficiali, come possono essere il Club Bilderberg, come potrebbe essere la Commissione Trilaterale, come potrebbe essere il CFR, il RIA, il Gruppo dei Trenta. Ci sono dei potentati bancari come la Goldman Sachs, che accomunano tutti i politici italiani, che dal 92 ad oggi hanno traghettato l'Italia verso una vera e propria dittatura finanziaria. Quindi coloro che hanno beneficiato delle leggi messe in campo da quei politici sono gli stessi che hanno favorito l'arrivo al governo di quei politici stessi, lo scatto di carriera nelle varie istituzioni europee di quei politici stessi. Probabilmente chi ci ascolta da casa è la prima volta che sente nominare il Bilderberg o la Commissione Trilaterale. Sono degli incontri annuali di tutti i membri del capitalismo speculativo che per tre giorni si riuniscono a porte chiuse e parlano tra di loro. Non ci sarebbe nessuna anomalia detta così, perché esistono organizzazioni di categoria, di ogni tipo di categoria, quindi è giusto che ci sia anche della finanza speculativa. Il problema è che a queste riunioni partecipano molti esponenti politici e coincidenzano dopo uno scatto di carriera ai governi del Paese. Ma non hai paura che ti denunci, no? No, perché ho denunciato io loro. C'è stata una denuncia alla Procura di Roma, tra l'altro c'è stato anche qualche parlamentare che mi ha accompagnato, proprio per le dinamiche descritte nel libro, perché c'è una legge che vieta questo tipo di organizzazioni se poi hanno un impatto sulle scelte di governo. C'è un personaggio che secondo te è colpevole? No, colpevole Monti come Prodi, come Draghi, come Ciampi, come Andreatta, quindi colpevoli tutti. C'è un capitolo che si chiama Cronologia della dittatura finanziaria dove io dico ognuno che ruolo ha avuto. Sicuramente l'apice si è raggiunto con Mario Monti, con l'arrivo di un governo tecnico nel 2011. Se io chiedessi ai nostri telespettatori o alle persone qui al mio fianco, Mario Monti come ce l'hanno presentato? Che cosa ci hanno detto? Chi era Mario Monti prima di essere un professore della Bocconi? Mario Monti era il membro del direttivo del club Bilderberg di Rockefeller, quindi il membro del direttivo della più grande lobby della finanza speculativa mondiale. Ufficialmente, quando lei mi dice perché l'hanno denunciato, perché sono dati ufficiali, non li ho inventati, io sono ufficiali. Mario Monti era il presidente europeo della Commissione Trilaterale, un'altra delle più grandi lobby della finanza speculativa. Mario Monti proveniva dalla Goldman Sachs, Mario Monti proveniva dalla lobby Belga Bruegel, ci hanno detto che era un rettore della Bocconi, quindi l'ultimo dei suoi incarichi. Io voglio spiegare una cosa in poche parole. Quando io parlo di questi gruppi, non parlo di complottismo, perché il complottista è chi racconta cose incredibili che non può dimostrare. Io invece ho dimostrato cose incredibili che non potevano essere raccontate, perché quando arriva al governo Mario Monti come presidente europeo della Commissione Trilaterale, la Trilaterale è gente che nel loro report, esiste un report ufficiale che si chiama The Crisis of Democracy, con la firma addirittura di Gianni Agnelli, nel loro report scrivono la democrazia non è sempre applicabile. Bisogna stracciare le Costituzioni, i popoli devono vivere in uno stato di apatia, bisogna superare con le tecnocrazie quelli che loro chiamano gli eccessi di democrazia. Questo lo scrivono nel loro report e noi abbiamo permesso che il presidente europeo di un'organizzazione che scrive queste cose nel loro report venisse messo a capo di un governo democratico. A chi scrive che la democrazia non è sempre applicabile e noi abbiamo dato in mano un paese democratico. A chi scrive che andrebbero stracciate le Costituzioni noi abbiamo dato l'agio di poter modificare la nostra Costituzione senza chiedere il consenso agli italiani ed è quello che è avvenuto con l'introduzione del pareggio di bilancio. A chi proviene dalla Goldman Sachs, che è una delle banche che ha indotto la crisi sui mercati, noi abbiamo dato la possibilità di sollevare il paese della crisi. E che cosa è successo a quel punto? Il numero dei poveri è raddoppiato perché abbiamo dato soldi... Come si chiamano i Bondi che ha firmato Monti? Si chiamano i Monti Bondi, al Monte dei Paschi Siena, 4 miliardi nel momento di massima crisi. Monti ha pagato in anticipo i derivati tossici alla Morgan Stanley. Monti ha pagato 40 miliardi di euro al meccanismo europeo di stabilità per far rientrare la Germania dagli incauti prestiti che aveva fatto alla Grecia. Quindi tutte scelte sbilanciate in favore della finanza speculativa perché era stata la finanza speculativa a metterlo lì. Perché lui era membro di spicco di quelle organizzazioni. E se volete vi racconto come è arrivato al governo, perché io ero lì. E qual è la figura, allora, a questo punto di Napolitano e poi di Renzi come Presidente del Consiglio? Perché è stato Napolitano. Napolitano, quello che Henry Kissinger, quindi uno dei promotori di queste organizzazioni, chiamava il mio comunista preferito, che Napolitano addirittura ha accolto anche più volte in Italia, è stato il 3D non. Voi dovete sapere una cosa. Nel 2011, io ero a St. Moritz fuori a questo hotel, perché la riunione era ufficiale, si riunivano a St. Moritz a giugno del 2011, come italiano c'era Mario Monti, come invitato italiano e ufficiale, lo trovate anche sul sito dell'organizzazione. Mario Monti però non era un semplice invitato, ma era un membro del direttivo. Insieme a lui sapete chi c'era? C'era Jean-Claude Trichet, Presidente della Banca Centrale Europea, c'era Joseph Ackerman, Presidente della Deutsche Bank, e c'era Peter Sutherland, Presidente della Goldman Sachs. Erano insieme a lui, non come invitati, quindi non insieme ai 120 invitati, ma nel gruppo direttivo. Ora voi mi direte, e cosa c'entra Monti insieme a questi personaggi? Un rettore della Bocconi, insieme al Presidente della Banca Centrale Europea, della Goldman Sachs e della Deutsche Bank. Se voi aprite i giornali subito dopo quella riunione, quindi i giornali di luglio del 2011, leggete, i giornalisti, ma i giornalisti italiani, parlo di Repubblica, quindi parlo non di giornalisti che tirano a favore del governo il cambiamento, che scrivevano, ma perché la Deutsche Bank ci sbatti all'inferno vendendo l'88% dei nostri titoli di Stato? Ma perché la Goldman Sachs improvvisamente crea la crisi dello spread? Ma perché la Banca Centrale Europea manda una lettera al governo Berlusconi con delle misure irrealizzabili in quel periodo e contro i popoli? Che cosa hanno causato le scelte di queste tre banche? Hanno causato quella che si chiama la crisi dello spread, che ha portato al governo, guarda casa, il quarto uomo che era con loro in quelle organizzazioni. Quindi quando io parlo di golpe finanziario, qualcuno mi può smentire, e le riunioni sono ufficiali, nel direttivo lo potete leggere hanno insieme, e le azioni mirate di queste tre banche hanno causato la crisi dello spread che hanno portato al governo proprio il quarto uomo che era con loro, che poi ha messo in essere tutti azioni a favore delle potentate bancari che lo avevano messo lì e contro i popoli e contro le democrazie. Loro che scrivono che la democrazia non è sempre applicabile, che ci vuole la tecnocrazia e che andranno stracciate le Costituzioni. E l'introduzione del fiscal compact e del pareggio di bilancio in Costituzione la nostra Costituzione l'ha stracciata. Questi sono fatti veri e documentabili. non è che ci si... Ha fatto un lavoro tremendo. È stato bravissimo. È stato bravissimo. Io l'ho invitato per quello. Se qualcuno volesse venire su internet ci sono le mie immagini fuori a questo hotel. Non mi ricordo più come ti ho captato. Ti ho visto in qualche parte e ho detto questo fa caso mio. Ti ho chiamato e ho detto viene se vuole venire. Io sono così scopritore di talenti. Magari ti conoscevano già. Però io ho detto questo deve venire da me. Le l'ho proposto. Non ripristino la divisione tra banche commerciali e banche d'affari. I soldi all'economia reale non arriveranno mai. Non arriveranno mai più perché oggi le speculazioni sui mercati rendono troppo di più. Dato che i mercati sono alla ricerca del profitto non investiranno mai nell'economia reale. Quindi se non viene ripristinato la divisione tra banche commerciali e banche d'affari quindi la banca commerciale deve prestare all'economia reale e la banca d'affari si fa fare le cavolo di speculazioni sua se non si ripristina questa divisione ma una banca deve scegliere se prestare al cittadino o fare speculazioni. Ma chi è che ce lo impedisce? Come si può fare? Si può ripristinare? Chi dovrebbe farlo? Lo sapete che Monti era membro della commissione Attali per il rilancio della Francia che è il nostro maggiore competitor. Questa sembra una cosa incredibile se qualcuno a casa mette su Google era membro ufficiale della commissione Attali per il rilancio della Francia che è il nostro maggiore competitor. Ma cosa potremmo fare adesso Francesco? Quello che stiamo facendo. Cioè spieghiamo perché le accuse le abbiamo fatte abbiamo spiegato che cosa accade. però dobbiamo dire noi signori per poter... Sostenere questo governo che è l'unico possibile. Quale governo? Governo del cambiamento. Ah questo? Che ha un solo peccato originale si dovrebbe chiamare governo della liberazione perché tra cambiamento e liberazione c'è una differenza. Cambia tutto? Sì cambia tutto. Perdonami Francesco questo io inizierò a chiamarlo governo del cambiamento quando verranno aggredite anche le banche non più i cittadini. Allora quando ti trovi di fronte a questi scenari non puoi pretendere tutto e subito ma è il miracolo che è avvenuto il 4 marzo e noi ce ne dobbiamo un attimo rendere conto noi stiamo parlando di scenari in questo periodo sia nel dibattito parlamentare nel dibattito europeo che nel dibattito televisivo noi stiamo parlando dei problemi dell'euro. Signori i problemi dell'euro non sono nati il 4 marzo sono nati tre anni prima dell'entrata in vigore dell'euro i problemi di cui parliamo oggi. Il problema dei vincoli europei non sono nati il 4 marzo sono nati nel 1992 il problema dei paesi che sforano come la Germania che dopo l'entrata nell'euro la Germania ha sforato tutti i vincoli di cui noi parliamo adesso l'ha fatto 18 anni fa quindi che è successo? Noi siamo rimasti praticamente ibernati per 25 anni perché c'è stata una cristallizzazione del processo democratico perché nessuno sapeva nulla. Il miracolo se noi oggi parliamo di queste cose vi rendete con queste cose scattate? Noi stiamo parlando di cose come se fossero accadute ieri e oggi ne discutiamo sono cose accadute 20 anni fa e ne stiamo parlando oggi e questo è il miracolo che è avvenuto il 4 marzo che la gente non ha capito ed è un miracolo irreversibile possono accoppiarsi PD, 5 Stelle possono far cadere il governo possono fare un nuovo governo tecnico le politiche che sta portando avanti Salvini e quindi il governo del cambiamento sono le uniche possibili perché c'è stato un risveglio delle coscienze ci siamo usciti da questo stato di ibernazione ma com'è che noi parliamo dei problemi dell'euro? I problemi dell'euro sono nati nel 2000 e lo ripeto forse 3 anni prima dell'entrata in vigore noi siamo andati in deficit nella bilancia dei pagamenti abbiamo avuto il calo della produzione industriale lo abbiamo avuto subito dopo l'entrata nell'euro perché ne stiamo parlando mo? perché per le dinamiche che ho spiegato prima hanno cristallizzato il processo democratico ci hanno ibernati la disinformazione mediatica e qui apro una piccola parentesi e che concludo nel 2014 io ero fuori alla riunione del Bilderberg di Copenaghen entra una sola giornalista italiana a quella riunione si chiamava Monica Maggioni era direttrice di Re News non sto dicendo nulla di strano è ufficiale è stato dichiarato ok ora io non voglio dire qualche mese dopo Monica Maggioni diventa presidente della RAI se è vero ora io o faccio il complottista e dico secondo me è diventata presidente la RAI perché aveva il supporto di queste organizzazioni no io però dico una cosa proprio perché partecipava a quelle organizzazioni lei presidente e la RAI non poteva diventare perché la RAI è una TV di Stato deve essere il megafono di quelli che sono i valori della democrazia non puoi partecipare a un'organizzazione che dice che la democrazia non è sempre applicabile tu devi portare avanti in televisione i principi costituzionali non puoi far parte di un'organizzazione come la trilaterale della quale lei fa anche parte che dice che vanno stracciate le costruzioni è lo stesso discorso che facevo con Monti a me non preoccupa la partecipazione a queste organizzazioni a me preoccupa il ruolo e il grandissimo conflitto di interesse che hanno dopo arrivando a capo delle istituzioni democratiche del paese o della TV di Stato perché la vigilanza RAI non ha aperto un dossiere come poi ha fatto con FOA cioè un grande giornalista libero come FOA deve essere messo i bastoni tra le ruote e il membro del Bilderberg e il membro della commissione trilaterale come Monica Maggioni che lei può andare a tutte le riunioni che vuole ma se tu partecipi a queste organizzazioni perché vuoi far parte di questi salotti non puoi diventare il presidente della RAI della TV di Stato ma perché nessuno l'ha detto pensi di Saviano siamo alla il giorno dopo una lettera che io ho postato sul web che si chiama lettera di un ex giornalista di cronaca di Camorri a Saviano che è diventata virale penso che lui ha capito quale sistema può toccare e quale sistema non può toccare per i propri interessi quindi lui ha portato avanti questi attacchi verso alcuni membri della criminalità organizzata ormai andati ormai già all'ergastolo ormai già finiti e non ha mai toccato i scenari di cui stiamo parlando stasera certo qualcuno potrebbe dire non è che uno può denunciare tutto magari ognuno si specializza in una cosa però Saviano oggi viene visto come un intellettuale quindi non solo come l'autore di Gomorra un intellettuale soprattutto di sinistra quindi dalla parte del popolo come può un intellettuale dalla parte del popolo non denunciare queste dinamiche quindi come può non toccare il cartello finanziario speculativo come non può può non toccare chi si è arrogato il diritto di creare la nostra moneta per gli interessi e semplicemente la finanza è contro i popoli e contro le democrazie come puoi andare in visita da Macron che è un membro o di spicco di queste organizzazioni che i popoli li disprezzano e penso che il disprezzo di Macron per i popoli si è avuto allora quello che ha avuto ha avuto Saviano perciò lo vediamo in tutte le tv perciò vediamo il suo libro anche negli autogrill mentre prendiamo il caffè ha capito quale sistema poteva toccare liberamente e quale non doveva assolutamente toccare per essere portato così dai media mainstream siamo alla vigilia di un momento storico domani una stretta di mano tra il presidente americano e il presidente cinese potrebbe potrebbe decretare la fine dell'Europa così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi che non la voglio definire a trazione tedesca perché trazione è qualcuno che tira voglio dire no qualcuno che affonda che butta giù ma una stretta di mano in Cina nell'ultimo trimestre le partite correnti sono crollate quasi a zero non era mai capitato gli americani lamentano la stessa cosa e il vero colpevole è la Germania se i due decidono di di fare un patto di non belligeranza in questo momento la Germania è finita e con lei l'Unione Europea così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi tutto dipende da questa stretta di mano che si faranno domani il presidente Trump e il presidente cinese perché ricordiamoci che questa Europa qualcuno dice così come l'abbiamo conosciuta non finirà mai finirà solo quando poteri più forti decideranno di farla finire regia riusciamo a fare un primo piano eccolo qua la Matrix europea devono prenderlo attraverso il sito francescomodio.it perché è stato totalmente censurato che è stato da un'altra di farla finirà che è stato un'altra che è stata Grazie a tutti.